La vita di Piola Torre è il simbolo di un mezzogiorno, di un Sud, che non si è mai rassegnato alle mafie, allo strapotere delle cosche e che è riuscito ad andare avanti a qualunque costo, nel caso di Piola Torre purtroppo a costo della vita. La Torre era un palermitano, era nato in una piccola frazione alle porte di Palermo e veniva da una famiglia molto umile. Il padre e la madre erano braccianti, molto poveri. Lui sin da ragazzo si impegnò nell'attività politica, soprattutto a fianco dei braccianti e poi si iscrisse prima alla CGL con una carriera da dirigente e poi al Partito Comunista Italiano. Nel 1976, eletto alla Camera, fu componente della Commissione parlamentare antimafia e autore della relazione di minoranza, in cui per la prima volta venivano accusati alcuni politici di intrattenere rapporti con Cosa Nostra. Si parlò di Giovanni Gioia, Vito Ciancimino e Salvo Lima. Rileggerla oggi, quella relazione di minoranza fa venire i brividi per la lungimiranza e la capacità di analisi che ebbe. Ma c'è un punto in cui la vita di Piola Torre prende una svolta che sarà decisiva e drammatica. Nel 1980, insieme a Virginio Rognoni, presenta la famosa, che poi passerà alla storia come la legge, Rognoni la Torre, quella che prevedeva il reato di associazione di stampo mafiuso e soprattutto permetteva il sequestro dei beni agli esponenti di Cosa Nostra. Vorrei ricordare una frase che Piola Torre disse durante un'intervista con il grande giornalista Giuseppe Marrazzo. Noi proponiamo di concentrare l'attenzione sull'illecito arricchimento, perché la mafia ha come fine l'illecito arricchimento. Allora è lì che dobbiamo mettere i riflettori. Insomma, il famoso, che poi fu uno dei motti anche dei giudici Falcone e Borsellino, Follow the Money, seguite i soldi. Nel 1981, un anno dopo, Piola Torre avverte la necessità di ritornare nella sua terra natia, in Sicilia, e chiede di andare a fare lì il segretario regionale del PC. Purtroppo, un anno dopo, viene assassinato insieme al suo autista Rosario Di Salvo. È uno scenario drammatico quello che si apre. Pochi giorni prima è stato assassinato Salvo Lima, che era appunto indicato come il tre di union tra alcuni settori della democrazia cristiana e le cosche di Cosa Nostra. Ai funerali di Piola Torre c'è anche il generale dalla Chiesa. appena spedito in anticipo a Palermo per coprire l'incarico di prefetto. Ricorderanno in molti la sua ultima intervista drammatica a Giorgio Bocca, un testamento che anticipò soltanto di pochi giorni la morte del generale assassinato con la moglie, anche lui in una strada di Palermo. Giorgio Bocca, un imperio di Palermo. Grazie a tutti.